Ha deciso di ribellarsi contro il meccanismo della tratta di esseri umani tra la Libia e la Nigeria, nella quale era rimasta coinvolta, denunciando i suoi aguzzini. La protagonista è una ragazza nigeriana, riuscita a sfuggire ai trafficanti che l'avevano portata fino in Sicilia e che l'avrebbero poi avviata alla prostituzione. Le persone alle quali si era rivolta per organizzare il viaggio avevano assicurato che in Italia avrebbe lavorato come babysitter. E solo in Libia, rinchiusa in una casa prigione dalla quale l'hanno fatto uscire con un enorme debito a dover ripagare, e ha saputo che appena arrivata in Sicilia sarebbe stata costretta a prostituirsi. Così una volta sbarcata a Pozzaglio, dove era giunta nei mesi scorsi a bordo di un barcone, la giovane ha deciso di denunciare il meccanismo ideato da tre gruppi specializzati che oltre a favorire il fenomeno della prostituzione, celato da false promesse di lavoro, effettuavano pur di raggiungere i loro intenti criminosi, pressioni psicologiche, riti vudua e danni dei familiari delle vittime. Così questa mattina all'alba sono scattati fermi nei confronti di quattro persone, tre donne e un uomo, tutti di nazionalità nigeriana e di età compresa tra i 27 e i 32 anni. I provvedimenti sono stati seguiti tra Novara, Prato e Napoli. Nella stessa operazione la squadra mobile di Ragusa è riuscita a liberare due ragazze che si trovavano ancora prigionieri affidandoli ad una comunità.